Martedì verrà presentato lo studio di fattibilità del progetto del nuovo stadio liberatico, lo solo chiedere al mister se magari ha avuto modo di sbirciare o vedere qualcosa, non lo so. Sì, allora io lo dico pur sapendo, faccio un commento, sapendo che gli allenatori non hanno una vita lunghissima all'interno delle società, per tutta una serie di motivi, però benissimo che ci sia il campo, lo stadio nuovo che permetta ai tifosi di assistere alle partite in una certa maniera, permetta alla società di patrimonializzare, però io la domanda che faccio è sempre la stessa, ma questa squadra dove si allenerà nei prossimi anni? Dentro lo sportivo, esigenza di fare dentro lo sportivo, quindi. A prescindere dal fatto che l'allenatore possa essere… Dal progetto non vede l'antistadio, dice lei, dal progetto non ha visto l'antistadio, dice, no. No, a parte non vede l'antistadio, ma penso sia anche difficile allenarsi mentre viene smontato e rimontato uno stadio nuovo, no? Quindi la domanda è, ma la Ternana dove si dovrà allenare nei prossimi anni? Bene, faremo la domanda martedì.